eccoci benvenuti a questa nuova diretta questa nuova esperienza di auto coaching intitolata chi sono senza aspettiamo qualche secondo qualche minuto per permettere alle persone di raggiungerci intanto mi presento sono carolina venturini pet loss business coach mi occupo del lutto della rinascita delle persone dopo aver trasformato l'esperienza del lutto animale in qualcosa di buono per la propria vita sia da un punto di vista personale sia da un punto di vista professionale oggi parliamo di rinascita quindi parliamo di quello che accade nel post lutto quindi quando a un certo punto senti la voglia di lasciarti alle spalle il momento di tristezza o senti il desiderio di vedere cosa c'è oltre cosa c'è dopo cosa c'è dall'altra parte del dispiacere o in questo caso cosa c'è dall'altra parte del ponte dell'arcobaleno perché come sai nelle mie pagine mi occupo principalmente del lutto animale ovviamente quello che vediamo in queste esperienze di auto coaching sono disponibili sono utili anche per le persone che stanno vivendo anche altre tipologie di dispiaceri o di lutti ma perché mi occupo proprio di questa fase di vita di queste esperienze di vita non lo so se hai avuto modo di approfondire chi sono dal mio sito o dagli altri canali però anch'io ho avuto un cane che si chiamava mercurio e oggi ho un gatto straordinario che si chiama mufasa e mercurio non c'è più mercurio è stato il punto di inizio di questo viaggio che mi ha portato a capire l'importanza del lutto nella vita delle persone perché gli animali creano proprio uno spartiacque quando ci lasciano sono uno spartiacque la vita che facevamo insieme a loro non è detto resti anche quando poi non ci sono e non è detto perché se l'animale che ti ha lasciato era l'unico era il primo era il più speciale il più importante quello con cui hai realizzato grandi cose quando viene a mancare qualcosa non c'è più qualcosa della tua vita ovviamente cambia ma oggi siamo qui a pensare a chi diventi dopo quindi a chi sei senza ed è per questo che il titolo di questa esperienza di auto coaching si intitola proprio chi sono senza ed è una domanda che capita di farsi soprattutto quando sei in quella fase in bilico fra il lutto e quello che c'è dopo quando inizi a chiederti adesso che forma posso dare alla mia vita adesso cosa me ne faccio di me cosa faccio delle mie esperienze delle mie competenze magari della mia stessa professione adesso che non c'è più proprio quell'animale con cui la condividevo o con cui l'ho creata o magari quell'animale con cui sono diventata donna sono diventata mamma sono diventata papà o magari sono diventato un uomo perché certi animali ti accompagnano da quando sei neonato in poi e gli animali sono importanti proprio perché sono compagni di vita significanti e significativi quindi oggi in questa diretta vediamo cosa c'è dopo e lo vediamo con gli strumenti del coaching ad ispirazione gestaltica che è il mio metodo di lavoro infatti queste dirette sono create apposta per farti percepire sia chi sono come coach sia la mia energia sia se quello che ho da offrirti può essere una soluzione per la tua rinascita per la tua voglia di credere ancora nella vita perché l'obiettivo del mio lavoro l'obiettivo dei percorsi di coaching che attivo è proprio aiutare le persone a ritornare verso la vita ritornare verso se stesse un passo oltre il dispiacere per la perdita del proprio animale c'è un tempo del lutto c'è un tempo per ritornare alla vita e per tornare a sorridere a tornare a vivere quindi iniziamo questa nostra esperienza partendo proprio da una domanda e cioè chi sei adesso senza senza il tuo animale chi potresti essere e ti faccio una domanda ancora prima proprio per aiutarti a entrare nell'esperienza del del coaching ad ispirazione gestaltica e cioè perché sei qui che cosa ti sta portando in questo momento in questa diretta o nel riconoscere di vedere questo video in un secondo momento cosa ti porta qui oggi è una domanda importante perché nell'intento nella motivazione che ti porta qui in questo momento c'è il seme per il tuo futuro c'è il seme per quello che verrai e per quello che sarai in futuro ma anche adesso perché il coaching ad ispirazione gestaltica si muove sul presente su sulla persona che sei e su quello che potresti essere da qui in poi come dico sempre nei video nelle diverse dirette quello che faremo oggi è pensato per attivare in te delle delle energie delle risorse delle riflessioni non è necessariamente vero o falso prendi quello che ha senso per te quello che per te oggi significa qualcosa magari domani ci sarà qualcos'altro ma in questo momento segui il flusso segui il tuo sentire il coaching ad ispirazione gestaltica si basa molto sul sentire e quindi adesso rallentiamo un attimo e dopo aver messo un intento per questa tua esperienza ti chiedo che emozione c'è dentro di te in questo momento quando pensi all'opportunità di essere qualcos'altro da ora in poi rispetto alla persona che sei stata quando c'era il tuo animale prova a sentire dentro di te dove è questa emozione che segnali ti dà il tuo corpo di che cosa ha bisogno magari in questo momento il tuo corpo prova a scendere nelle sensazioni quindi nelle sensazioni fisiche del gusto del tatto della vista del sentire che forma questa emozione che ti porta a desiderare di essere qualcosa di nuovo oltre a quello che sei stata o stato quando c'era il tuo animale e dopo essere scesa di più nel tuo corpo prova a sentire che cosa è cambiato rispetto a qualche tempo fa che cosa ti ha portato ad andare verso il desiderio di aprirti delle nuove porte il titolo di questo incontro è chi sono senza e senza è una parola dai significati immensi perché ti rimanda a senza qualcosa senza qualcuno senza te e quindi che significato ha per te la parola senza quando ti immagini di essere qualcuno senza a cosa pensi cosa immagini di te che forma ha questo senza senza può essere senza delle abitudini senza dei ritmi senza delle consuetudini o magari anche senza delle responsabilità senza senza degli obblighi senza la stanchezza di doverti pensare in un determinato modo è importante che sia tu a definire questo senza che ti vuoi lasciare alle spalle perché quando abbiamo capito che cosa ti vuoi lasciare alle spalle poi arriva il momento in cui ti chiedi chi vuoi essere con con che cosa con chi con quanto con quando vuoi essere prova a sentire nel tuo corpo che emozioni ci sono in questo momento quando ti pensi insieme a qualcosa a qualcuno insieme a te stessa in una nuova vita che certo non ha la presenza fisica del tuo animale però a te prova a immaginarti come sarebbe una vita dove ci sei profondamente tu fino in fondo davvero non te la puoi permettere in questo momento una vita dove ci sei tu al cento per cento dove ci sei tu ampliata dall'esperienza dalla saggezza dai doni che hai avuto insieme al tuo animale e adesso proviamo a fare un passo in più un passo verso le tue risorse un passo verso quello che hai trovato in questi anni in cui c'era il tuo animale e quelle risorse che hai trovato adesso vivendo il lutto risorse che possono essere utili da adesso in poi per andare un passo oltre e queste risorse possono essere di diverso tipo quindi pratiche emozionali possono venire dal passato possono aprirsi nel futuro ci si fonde davvero per vivere in un'esperienza quando riesci a riconoscere anche che cosa hai preso da questa esperienza e prendere tutto fuorché semplice e scontato perché dipende da quanto ti autorizzi a prendere dalle esperienze che hai avuto una risorsa potrebbe essere proprio l'esperienza stessa che adesso da adesso in poi ti può guidare e per aiutarti a individuare quelle che sono le tue risorse ti propongo un'attività che puoi fare quando te la senti non in questo momento se non è il momento perché magari stai viaggiando o sei al lavoro o stai facendo altre cose però prenditi un tempo per te e prenditi un tempo per scriverti una lettera una lettera in cui ti riconosci in cui ti autorizzi a prendere la tua vita a prendere in mano chi sei stata ma anche le tue risorse e quindi in questa lettera che ti invito a scrivere alla te del passato prova proprio a iniziare con questo incipit cara me virgola e poi prova a darti questi step per la scrittura della tua lettera parti dal riconoscimento di quanto ti sei impegnata nel prenderti cura del tuo animale e nel dargli amore parti dal riconoscimento del tuo ruolo verso il tuo animale chi sei stata chi era lui per te che cosa significava il vostro stare insieme per te e poi ringraziati non solo il tuo animale ma ringrazia proprio te per esserci stata per aver avuto la forza e il coraggio di accompagnarti fino a qui in questo momento non era scontato ma ci sono persone che abbandonano gli animali in fin di vita nel fine vita o quando scoprono che hanno patologie o quando c'è il momento del lutto li portano in canile perché non li vogliono vedere o li lasciano dal veterinario dando poi l'incombenza al veterinario di smaltire anche la carcassa e le ceneri e invece tu sei restata quindi ringraziati per la forza che hai avuto di stare e prenditi questa tua capacità di stare perché non è scontata è una cosa importante stare fino alla fine è un atto d'amore è un atto che ti aiuta nella vita nelle relazioni che ti aiuta a costruirti stare è importante perché è più facile fuggire stare significa avere forza avere forza interiore avere la capacità di accettare la vita anche nei suoi momenti più tristi ma stare significa anche sapere che dopo il momento triste arriva qualcos'altro e dipende anche da te la tua capacità di aprirti scrivi a te stessa il tuo intento per il futuro scrivi a te stessa come vuoi rinascere come ti immagini in questo futuro qual è l'orizzonte verso cui punti e se non hai in questo momento un orizzonte perché magari non ci hai ancora pensato chiudi gli occhi e prima di scrivere immaginati questo orizzonte che vuoi vedere per te stessa che vuoi portarti all'interno alla fine della lettera augurati qualcosa qualcosa di buono qualcosa di senso che ha per te è un augurio di commiatto un augurio in cui ci si saluta ma dove questo saluto è un ringraziamento è un conoscersi profondamente e anche darsi il permesso di aprirsi alla vita è un ci rivediamo nuove staremo ancora insieme staremo ancora vicine perché l'una e l'altra sono importanti eppure adesso autorizzami ad andare verso la vita chiedigli questa autorizzazione alla te di un tempo e senti che cosa ti risponde e se hai bisogno di qualcosa chiedigli di che cosa hai bisogno per aiutarmi ad avere questa autorizzazione quando ti sentirai sarai pronta quando sentirai di aver scritto tutto quello che è importante immagina anche il tuo rituale di consegna come puoi consegnare questa tua lettera a quella persona che sei stata quando c'era in vita il tuo animale e mentre lo stavi salutando mentre stavi vivendo le fasi più acute del lutto animale se ti fa piacere se farai questo esercizio e anche questo rituale scrivimi a info chioccialla carolina venturini punto it come sei stata come è andata quali sono le tue sensazioni come è stato vivere questo momento di contatto fra te e te e una volta fatto questo prendi dei grandi respiri grandi e profondi respiri per riportare dentro di te dentro il tuo presente la tua presenza perché la cosa importante è proprio portare presenza ora ci avviciniamo alla chiusura di questa breve esperienza di coaching e ti chiedo che cosa te ne sei fatta che cosa te ne farai di questa esperienza di questa esperienza di auto coaching ma anche di chi sei stata quando c'era in vita il tuo animale come sempre per qualsiasi necessità puoi contattarmi poi nei messaggi o tramite sito tramite social sono qui a tua disposizione se senti il desiderio di lavorare su di te alla tua rinascita o alla tua crescita anteriore puoi utilizzare il link che trovi nella descrizione per inviarmi la tua richiesta di contatto e se sarà possibile perché la tua domanda è fattibile e quindi coerente con un percorso di coaching attiverò la tua sessione gratuita di orientamento per scoprire poi tutte le caratteristiche del percorso individuale insieme a me ti auguro un buon sentire e buona vita buona scoperta e buona rinascita a presto da Carolina a presto